Una telecamera ad infrarossi misurerà la temperatura corporea del flusso quotidiano da 2000 studenti in entrata visando in tempo reale ogni alterazione sopra i 37 gradi e mezzo e così che il liceo scientifico Guglielmo Marconi di Pesaro intende affrontare l'inizio delle attività didattiche a settembre il termoscanner sarà impiantato all'ingresso del liceo in tempo per la prima campanella dell'anno scolastico Allora è un termoscanner molto simile a quello che ci sono negli aeroporti riesce a processare circa 30 persone al secondo quindi queste telecamere fanno delle fotografie all'infrarosso e processano tutti i pixel quando un pixel rappresenta un corpo con una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo suona un allarme, a quel punto c'è un collaboratore scolastico che ferma il ragazzo gli fa un'ulteriore verifica della temperatura attraverso un termometro normale e a quel punto se effettivamente è febbricitante sta un attimo in isolamento nella nostra aula adibita e verrà chiamata se minorenne la famiglia Il presidente nazionale dei presidi Antonello Giannelli esprime la propria contrarietà all'utilizzo di questi apparecchi elettronici per evitare assembramenti riconducibili alla misurazione mentre il presidente Amp Marche nonché preside del Marconi è sempre più convinto che l'utilizzo di questo strumento servirà a prevenire e controllare il flusso di 1950 studenti dell'istituto da lui diretto garantendo un valore oggettivo ad uno dei pochi sintomi misurabili Noi facciamo dei corridoi nel quale gli studenti a distanziati di un metro uno dall'altro possono, ed sono molto lunghi questi corridoi, possono attendere ma più che attendere camminare lentamente fino ad arrivare davanti alla telecamera quindi non c'è un assembramento i ragazzi arrivano e gli vengono misurate la temperatura A meno di un mese dalla riapertura delle scuole le linee guida non sono state rese note attualmente c'è un dibattito aperto sulle stesse, su particolari chiave come le mascherine in classe anche se il ministro Azzolina ha ribadito più volte che le mascherine sono uno strumento di protezione importante nelle scuole e ne distribuirà 11 milioni al giorno in tutti i plessi scolastici Intanto le scuole iniziano a mobilitarsi per la riepartenza adottando al massimo tutte le precauzioni possibili Altro nodo da risolvere prima dell'inizio è quello che riguarda la riorganizzazione del trasporto scolastico in funzione anti-covid, garantendo agli studenti di viaggiare in sicurezza senza gravare sulla capienza limitata dei mezzi Sul tavolo dei dirigenti scolastici al momento sono due le proposte la possibilità di stoppa, la didattica un giorno a settimana a turnazione per ogni istituto oppure l'ipotesi di rientro pomeridiano, prolungamento dell'orario scolastico per evitare da scuola a scuola la didattica a distanza Lì c'è una forte criticità, la regione ha deliberato sostanzialmente un obbligo di capienza per i pullman del 60% questo vuol dire che almeno il 40% dei studenti non sarà trasportato Cosa fa questo 40%? O viene con i mezzi propri o se ne sta a casa Se ne sta a casa è evidente che dovremo trovare delle alternative La didattica a distanza, quella attuata nel mese di marzo, aprile e maggio, presumo sia la cosa più sensata da fare Grazie 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 a tutti